Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code tra Valdarno e Firenze Sud, incidente al chilometro 326-700 tra Valdarno e in Cisareggello e code a tratti tra Firenze Nord, il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta, in uscita Firenze in Pruneta e code tra Firenze Sud e in Cisareggello. Sulla strada regionale 429 variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 12,50 e 17,650 circa nei comuni di San Cimignano, Gambassi Terme e Certaldo. Sulla strada provinciale 93 Certaldese, siamo nel territorio metropolitano di Firenze, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 7,600 e 8,900 circa nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Ed è tutto, buon viaggio!